Chiuso l'ultimo vlog promettendovi che avrei vloggato nonostante la settimana di viaggi e invece eccomi qui a sabato con nulla da mostrarvi per la settimana ma proprio per questo motivo visto che anche la fine di luglio ne approfittiamo facciamo un po' reso conto di come è andato questo mese di ripresa dei vlog di tentativo di ripresa delle abitudini e vediamo un po' cosa si può migliorare, cosa ho imparato quali sono stati gli highlight del mese e quali invece gli aspetti più negativi quindi eccoci qui per fare un po' il reso conto del mese vedere cosa è andato bene, cosa è andato male come stanno andando gli obiettivi se qualcuno l'abbiamo lasciato per strada e partirei dal tema ricorrente delle ultime due settimane cioè la velocità di iscritto non vi faccio rivedere tutto il test un'altra volta semplicemente vediamo insieme i risultati anche perché io stesso è da un paio di settimane che non faccio test quindi vediamo un po' ah, ok, pensavo di essere partito bene poi ho sbagliato in maniera clamorosa un po' di parole quindi siamo ancora a 58, faccio un altro test ok, ancora peggio bene, questo è un po' demoralizzante, devo ammettere ok, e questo test ci porta direttamente alla lista degli obiettivi che ci eravamo messi all'inizio del mese facciamo un piccolo recap per quanto riguarda la cucina in realtà ho fatto pochissimo non penso di aver fatto nessuno dei obiettivi che mi ero posto magari questo è un buon reminder per lavorarci domani che è domenica, potrebbe essere un giorno con più tempo a disposizione lo spagnolo anche non si è mosso tanto ho avuto un po' l'opportunità di parlare spagnolo ma in maniera veramente minima nel mese di luglio quindi lo lascerei così com'è non ho ancora cominciato a fare queste live di learning in public potrebbe essere interessante farle ora che viaggerò un po' di meno però allo stesso tempo ad agosto non c'è nessuno quindi non lo so sono live che faccio anche molto per me per forzarmi un po' a studiare ovviamente non lo so, devo rifletterci magari con qualcosa da iniziare più a settembre nel frattempo concentrarsi sul continuare a fare video saving plan in realtà nulla da segnalare tutto abbastanza normale Udemy Spanish Course vedete sopra per quanto riguarda la stand-up comedy allora dovrei fare un nuovo spettacolo ad agosto quindi in teoria facendone un agosto e uno settembre dovrei essere on track e ne ho scritto già un pezzo quindi vediamo se riuscirò a scriverne uno completamente nuovo mi farebbe piacere quindi questo obiettivo un po' indietro ma più o meno ci siamo per quanto riguarda la chitarra ho ricominciato un po' a suonarla ma ancora non ho imparato alcune delle canzoni che mi ero prefissato di imparare quindi Johnny Be Good probabilmente sarà la prossima che devo finalizzare vediamo se è qualcosa che riesco a fare entro la prossima settimana non so quanto tempo in realtà ci vorrà libri di fiction e non fiction allora ho finalmente finito Pastorale Americana libro incredibile ovviamente non c'è neanche bisogno di dirlo e questa non è la sede per discuterne ma magari lo faremo poi in separata sede sono comunque indietro per quanto riguarda la lettura sia di non fiction che di fiction come vi dicevo ho continuato a fare e a leggere un po' su base ricorrente però sempre molto poco sempre molto in maniera sporadica quindi vediamo adesso il mio obiettivo è finire Never Split the Difference come secondo libro di non fiction e poi crearmi una tabella un po' più chiara dei libri che voglio leggere agosto di solito è un ottimo mese per leggere perché sapete sulla spiaggia in vacanza anche se non so quante vacanze farò questo mese comunque diciamo spesso si trova più tempo film altra cosa su cui I need to get my shit together quindi assolutamente questa è una delle prime cose da fare cominciare a a capire e a mettere in programma i vari film che voglio vedere questo quarter per quanto riguarda la dieta forse è una di quelle cose che vorrei adesso spostare sul focus principale del mese quindi il mese di agosto perché ho fatto un po' più di attenzione all'esercizio non ho fatto attenzione alla dieta forse sono migliorato un pochettino rispetto al mese passato ma ho misurato poco primo errore e poi comunque appunto la dieta è la cosa che sposta più di tutte quindi adesso questi prossimi due mesi potrebbero essere veramente concentrati tanto su questo un po' come ho fatto a febbraio e marzo e penso di poter arrivare a questo obiettivo per quanto riguarda l'arrampicata ho ricominciato a fare un po' arrampicata adesso le bolle sulle mani sono scomparse non si vedono più ma dopo tanto tempo dalla mia prima volta sono tornato a fare scalata ho anche conosciuto delle persone insomma è stata un'interazione carina e vediamo potrei farla magari una volta ogni due settimane a livello logistico non è facilissimo ma sicuramente mi piace e penso che potrei riuscire a completare questo livello di scalata incrociamo le dita e per quanto riguarda la velocità di scrittura lo state vedendo che in realtà sto avendo problemi a raggiungerla forse questa è un'ulteriore prova che è difficile portare avanti un obiettivo in maniera passiva cioè io mi ero convinto che ok continuando a scrivere un po' così giorno dopo giorno riuscirò velocemente a arrivare a una velocità di scrittura però più vado avanti più mi rendo conto che invece c'è bisogno di quella che Cal Newport chiamerebbe deliberate practice quindi un allenamento specifico pensato fatto bene e quindi forse devo cominciare a ritagliarmi veramente dieci minuti durante il giorno in cui mi concentro a farlo bene perché la realtà è che a volte ancora faccio errori non ho tanti automatismi nelle mani o forse ho sbagliato completamente strategia e sarei semplicemente dovuto limitarmi a usare la tecnica che già usavo ma meglio vediamo come dicevo questa era anche una sfida per capire come migliorare su questo tipo di di attività come apprendere meglio quindi fa anche parte del percorso magari fare errori che però poi gli possono aiutare nelle decisioni future per quanto riguarda partite di tennis in realtà tennis non sono riuscito a organizzarle l'ho fatto con il padel quindi questo obiettivo diciamo a metà dipende un po' da come riesco a organizzare le partite insomma se riesco a trovare quattro persone che giocano mi fa piacere giocare a padel è più difficile nel mio gruppo di amici trovare quattro persone che giocino a tennis però ecco questo magari la cosa che devo fare è sistematizzarlo un po' metterle a calendario sempre dire ragazzi ok vai ogni due settimane andiamo giochiamo quindi questo è importante qui ci sono altre canzoni che devo studiare devo dire il mese di luglio per quanto riguarda questi obiettivi non è stato granché è stato molto più intenso del previsto come avete visto all'interno di anzi come non avete visto perché ripeto sono l'unico vlogger che non vi fa vedere quando viaggia mi fa vedere quando sta seduto davanti a una scrivania però è stato un mese con molti più fagi del previsto abbastanza intenso però devo dire tutte esperienze comunque positive quindi sono contento è stato un buon mese ho ripreso in mano il canale youtube che comunque era una cosa importante per me da fare sono contento che alcuni video stiano piacendo e andando bene altri video magari stanno ricevendo meno views meno attenzione però comunque stanno ricevendo ottimi feedback da chi li guarda anche questa forse è la metrica più importante per me e quindi niente dai mese di luglio gli diamo un 6 e mezzo un 7 per quanto riguarda gli obiettivi sicuramente un 4 però come dicevamo anche all'inizio di questi nuovi vlog c'è tanto da valutare e adesso che mi sono seduto qui e che sono così indietro magari la vergogna mi farà andare a casa e spingere un po' di più su alcuni di questi obiettivi in modo che poi ad agosto ci sederemo insieme e potremo invece dire vedi quante cose sono successe e sono state fatte in questo mese io come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao